Negozi aperti di domenica, cresce il partito dei no. Un vero e proprio coro di voci contrarie al commercio festivo, definito inutile quanto dannoso. Un sentimento comune raccolto in questi giorni da chi vuol farsi portavoce della categoria in regione. Questo è uno dei problemi che sento maggiormente perché sono direttamente interessato a questa cosa. Sto girando la provincia in lungo e in largo con il mio zaino sulle spalle e sto andando a trovare i commercianti perché questo problema è una cosa che tocca tantissimi operatori del settore. L'apertura domenicale sta pesando tantissimo. Una considerazione vissuta in prima persona da chi con la moglie opera in questo settore e vive in prima persona i disagi che ogni domenica tantissime famiglie trevigiane sono costrette a subire. Lavorare di domenica significa per molti sacrificare gli affetti, tra l'altro per un'iniziativa economicamente poco conveniente. Invece di guadagnare i soldi su una settimana si guadagna ogni sette giorni avendo più spese. Da qui la volontà di portare in regione il tema accompagnandolo da una maggiore regolamentazione dei centri commerciali. Hanno distrutto il piccolo commercio, stanno distruggendo i nostri piccoli centri storici che erano la nostra ricchezza, la nostra bellezza, la nostra cultura e quindi mi farò portavoce di questo problema in regione.